benvenuti e benvenuti a tre pinguini sul sofà la rubrica di libri e letture dell'unione femminile nazionale oggi vi proponiamo una nuova biografia di maria montessori scritta da martin gilsoul con la collaborazione di charlotte poussin il libro di cui parliamo si intitola maria montessori una vita per i bambini ed è edito da giunti nata nel 1870 maria montessori è stata molte cose tra cui scienziata antropologa pacifista militante per i diritti delle donne e dei bambini come pedagogista è ancora oggi nota per il cosiddetto metodo montessori che è entrato a far parte delle pratiche educative rivolte ai bambini da 0 a 6 anni ma la proposta di maria montessori non era chiudibile nel metodo ma si dispiega piuttosto in una concezione dell'essere umano nella biografia che vi proponiamo questa donna per molti aspetti geniale emerge anche nei suoi lati di fragilità e di ombra e nella sua vita quotidiana ce lo racconta martin gilsoul maestra formatrice e studiosa di storia della pedagogia buon ascolto e per me era molto importante avvicinare un po la vera maria montessori mostrare la sua umanità e penso che nel nelle lettere soprattutto nella corrispondenza diciamo privata no con questa sua carissima amica la marchesa maraini o con il padre si vede la vulnerabilità anche della donna no veramente il suo lato umano perché secondo me per troppo tempo abbiamo divulgato forse un po la un'immagine di maria montessori santa maria montessori super woman e quindi un po irraggiungibile e a me per me era importante mostrare anche il percorso mostrare che quello che adesso conosciamo come metodo montessori non è nato in un giorno ma è stato davvero un pensiero che si è arricchito un esperimento che più volte ha dovuto fermare per partire e ricominciare altrove no quindi mi piaceva sottolineare anche il coraggio di questa grande donna un genio per me che ancora forse non conosciamo del tutto e soprattutto penso che ancora non abbiamo capito il suo messaggio allora nel senso che troppo spesso maria montessori la presentiamo come pedagogista metodo montessori no e mi sembra importante sottolineare che lei ha più volte dice io non ero e non sono una pedagogista e a lei non piaceva questa appellativa di metodo montessori lei diceva sono gli americani che quando hanno tradotto il mio libro hanno coniato diciamo questa espressione no perché il suo pensiero è molto più più vasto con il metodo montessori no perché lei ci propone davvero quello che io chiamo una filosofia di vita e più volte nei suoi libri lei propone di sostituire questa parola metodo con per esempio la scoperta dell'anima umana oppure un modo per difendere il bambino e proclamare i suoi dritti no e quindi il pensiero di maria montessori è davvero molto più vasto che il metodo montessori diciamo il metodo per me è un mezzo che possiamo usare per sostenere il bambino nel suo sviluppo d'altra parte lei stessa come è descritto nel libro fu molto preoccupata e molto attenta a far sì che i successivi esperimenti della sua proposta non non la snaturassero in qualche modo mi sembra che oscillasse tra questo desiderio di diffusione della sua proposta e d'altro canto bisogno di controllarla in che in che modo questo questo percorso si ripana anche nel suo libro allora questo è una cosa che è stato proprio anche costante nel suo percorso no perché quando lei ha con il primo esperimento a san lorenzo rapidamente ci sono dei visitatori che vengono da tutto il mondo no soprattutto questa quella che lei chiama l'esplosione della scrittura no bambini di famiglie analfabeti che riescono a scrivere e leggere apparentemente senza difficoltà senza fatica no e per lei lei vede lì la rivelazione della potenza del potenziale dei bambini no la rivelazione dell'anima umana invece tanti visitatori vedono solo un metodo efficace per imparare rapidamente no e lì comincia subito lei lei comincia subito a rendersi conto del pericolo possiamo dire di di questo di essere fraintesa e questo è stato penso sempre così e forse ancora adesso lo è perché vediamo tantissimi cofanetti ormai montessori è un nome che fa vendere e ci sono tantissimi cofanetti che secondo me di montessori non hanno niente no ma già all'epoca fa durante la sua vita è stata una una costante e la cosa che mi piace molto di maria montessori lei aveva era una donna abbastanza decisa no aveva un cara un caratterà un caratteraccio forse si può anche dire caratteraccio leggendo il suo libro sembra di capire così e più volte è stata anche attaccata no e quando suo figlio la voleva difendere lei diceva non mi dovete difendere dovete lavorare e io penso che dobbiamo continuare comunque perché questo pericolo c'è sempre stato e ci sarà sempre ma penso che è studiando il suo pensiero e provando di lavorare bene nelle scuole montessori che possiamo diciamo aiutarla aiutare il suo pensiero a essere meglio conosciuto penso che comunque c'è stata una contaminazione positiva no ormai è normale per noi nelle scuole anche a casa trovare avere il mobilio a misura di bambino no quindi questo possiamo vederlo come una influenza di maria montessori che si rende conto che se vogliamo rendere un bambino autonomo anche nella gestione faccio un piccolo esempio no forse se un bambino impara a bere da solo è molto più facile farlo con un bicchiere a sua misura no però poi se si rovescia un po d'acqua lasciamo siamo tranquilli perché sappiamo che lui ha l'occorrente per pulire a sua disposizione no è un modo di riparare un piccolo incidente che lui ha fatto noi quindi anche il bambino è molto più tranquillo no e quindi l'importanza di dare oggetti a misura di bambino che funzionino quindi non si tratta di giocattoli no ma davvero una una scuola vera che mi permette di raccogliere le brisciole no piuttosto che un canovaccio che asciuga davvero quindi e questo è anche un modo di mostrare la nostra fiducia nelle capacità del bambino anche piccolo è una proposta di relazione educativa che può essere riassunta in quali parole aiutami a fare da solo come Dewey anche Maria Montessori propone una cultura dell'educazione quali sono similitudini e differenze fra queste due figure giganti nella storia della pedagogia quindi tutti e due si sono accorti che la nostra società era a misura di adulto e non di bambino e quindi hanno voluto aiutare il bambino a trovare lo spazio adatto in questa nostra società e sicuramente ci sono state delle critiche no di Dewey su la Montessori soprattutto per il materiale no che lui diceva che non era un metodo diciamo naturale non riproverava anche il fatto che forse nel metodo Montessori diceva si sviluppi di più diciamo l'individualità del bambino invece vediamo che tanti bambini poi lavorano insieme non si cercano perché secondo me una genialità di Maria Montessori è di aver voluto avere sempre dei gruppi di età eterogeni no quindi abbiamo bambini da tre a sei anni insieme sei nove nove dodici noi quindi vediamo che in modo naturale i grandi aiutano i piccoli i piccoli si ispirano dei dei più grandi quindi sì Maria Montessori ha voluto davvero ha dato un grande contributo a una cultura dell'infanzia a cambiare il nostro sguardo sul bambino e anche il bambino piccolo il bambino di pochi mesi che è in grado di fare piccole cose ma piccole conquiste da sé no perché lei dice troppo spesso noi serviamo il bambino e in questo modo lo impediamo di tirare fuori il suo potenziale ogni volta che interveniamo al loro posto è come se rubiamo l'esperienza al bambino no quindi lei dice è vero se lasciate ai bambini la possibilità di vestirsi da solo di pettinarsi da solo la mattina certamente ci vorrà più tempo se lo facessimo noi però è così che lui può imparare e trasformare il suo potenziale in competenze la dimensione politica di Maria Montessori presenta delle ambivalenze perché la troviamo protagonista della scena del femminismo di primo novecento e poi la troviamo a doversi relazionare con il regime fascista può dirci qualcosa di questo profilo allora sì sono tante cose da dire la prima cosa è che spesso il periodo femminista di Maria Montessori è un periodo che conosciamo meno no e quindi lei è stata molto attiva nel campo del femminismo nei primi anni del novecento come ha detto ma non solo con le parole perché lei parlava molto bene ma anche dando il suo tempo come medico aveva visto davvero la miseria di tante famiglie noi quindi ha capito quelle persone più precarie più deboli della società erano le donne e i bambini e ha dovuto lottare tanto per poter studiare per poter essere medico e penso che questa 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 lotta quasi che ha dovuto fare per lei è stata anche l'occasione di rendersi conto dell'importanza dello studio che lo studio era davvero un'occasione importante per le donne è per questo che lei fa di tutto per diciamo dare voglia alle donne di studiare no di renderle consapevole del proprio potenziale con l'arrivo al potere di Mussolini che era stato un maestro che aveva visitato le scuole della Montessori alla società umanitaria lei spera quelle cose quelle cose potessero cambiare no Mussolini che era molto intelligente furbo sa quanto Maria Montessori è famosissima in tutto il mondo no e quindi lui capisce che la può in un certo modo usare per il suo prestigio no e quindi Maria Montessori che vorrebbe tanto che nel suo paese le sue scuole fossero più numerose coglie questo questa promessa no poi vediamo che nel corso degli anni ci saranno tante promesse da parte di Mussolini dei suoi ministri ma che non si traducono poi nei fatti no e Maria Montessori non so se è stata ingenua o secondo me ha voluto forse mettere vedeva sempre il bene dei bambini prima di tutto no e quindi ci ha creduto ci ha voluto credere perché vedeva la possibilità di poter dare a più bambini italiani possibile questa opportunità di frequentare quindi lei si rende conto che è stata usata soprattutto perché lei è sempre stata una militante per la pace no e non solo a partire dal 1932 diventa ovvio perché lei ogni conferenza che fa parla della pace non l'educazione come diffusione come costruzione della pace no e questo ovviamente non poteva piacere a Mussolini e quando lei lascia definitivamente l'Italia nel 1934 quindi torna a Barcellona dove vive da da più anni e lì lavora con le famiglie degli anarchici italiani spagnoli no quindi vediamo che lei dice no a me la politica non interessa forse è un modo facile di disbarazzarsi di problemi no però è un fatto che lei ha lavorato con tutti su quali fonti ha lavorato per scrivere questo libro allora io ho scritto questo libro in francese che è stata una richiesta dell'editore e diciamo la mia fortuna è che in Italia sono state pubblicate tante tanti carteggi di Maria Montessori con i familiari con gli amici che non erano mai stati tradotti in francese ha avuto possibilità di attingere a documenti archivistici anche sì quindi allora io ho scritto durante il covid no perché è uscito nel 2020 quindi ovviamente tutto il lavoro che avrei voluto svolgere non ho potuto farlo ma a Roma sì ho potuto accedere agli archivi delle francescane missionari di Maria Maria che hanno avuto delle scuole Montessori molto belle perché hanno lavorato con gli orfani del terremoto di Reggio Calabria e Messina quel carteggio per me è stato molto importante perché si percepisce davvero quanto Maria Montessori fosse una donna sola e che cerca aiuto e c'era un'amicizia con la madre superiore delle francescane e in quelle lettere sì sì lei non si nasconde no quella ma mi sembra che lì sono riuscita a intravedere un po' l'autenticità di Maria Montessori in tutta la sua fragilità Grazie a tutti